...fatti anche per ospedali che in questo momento troviamo sulla cronaca come ah ma ci trasformano all'ospedale, se uno va a vedere quanti soldi sono stati spesi in attrezzature penso che questa opinione debba essere assolutamente debellata e cancellata. Diverso è il tema, non troviamo i cardiologi, non troviamo i fisiatri, non troviamo... eh sì, è vero, è un tema, è un tema a livello nazionale di cui stiamo tutti quanti soffrendo.